Un fronte freddo proveniente dal nord Europa interesserà la regione nel corso del fine settimana, preceduto sabato da correnti umidi, sud-occidentali e instabili. Avremo quindi sulla regione sabato cielo in genere nuvoloso con precipitazioni sparse, sarà possibile qualche locale rovescio con piogge più abbondanti. Le temperature saranno intorno agli 8-9 gradi le minime in pianura, intorno ai 13-14 sulla costa, le massime non supereranno i 16-17 gradi nei pianuroni sulla costa. In montagna zero termico 2.200 metri, quota neve quindi 1.700, temporaneamente sui rovesci anche 1.400, vento al sud moderato sulla costa. Domenica avremo al mattino residui e precipitazioni su buona parte della regione, più probabili e più diffuse sulla costa e sulla zona orientale, qualche nevicata intorno ai 1.000 metri in montagna. Il corso della giornata ha maggiore variabilità a partire dalla Carnia, ma potrebbero insistere invece ancora delle precipitazioni specialmente sulla costa e sulle prealpi carniche. Soffiera Bora moderata in pianura sostenuta sulla costa, temperature in calo con valori massimi che non supereranno i 14-15 gradi né in pianura né sulla costa. L'unidì sarà una giornata buona, al mattino poco nuvoloso con qualche velatura, in giornata qualche cumulo potrà formarsi in montagna e essere portato dalle correnti da nord poi verso pianura e costa. Temperature piuttosto basse, minima intorno ai 5-6 gradi sulla pianura, intorno agli 8-9 sulla costa, massime non supereranno i 13-14 gradi. E dell'osservatorio metodo dell'ARPA, Arturo Puccillo vi saluta.